E benvenuti raga su Rumble Roses E alla terza e ultima parte con Dizzy Krementens Via! Contro Lady Hitz Ovviamente non è ancora nella sua vera forma Vediamo se anche lei resisterà alla mia mossa Olè! Attacco sfuriate! Passi con l'attacco sfuriate! Boom! Oh! Mancato! Cioè mancata! Bene così E che dico che davi vantaggio a te vero quella mossa Cavolo! Ancora! Facciamo una bella visita ai denti Ti controllo i denti così Boom! Attacco sfuriate! Ok! Me la provo! Sì! Oh! Arche! Yo! Oppure Stunner Fate voi Vediamo Uno Due Tre Bella così Sconfitta E adesso Devo ricombatterla In maniera più Difficoltosa Per l'appunto Modalità Terminator Torra Eh sì Vuole il tuo corpo Come tutte Le altre Fatti sotto Lady It's Sub Stance Però devo stare Attento Quando Attiva la campanella Certamente È in corso Che va Quella mossa È in corso poffi mmmm ma da lei aia ecco appunto non vai alle corde esco anche guarda ecco appunto cos'è paura di me asciutto dai aia via 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 ecco ancora quando fa così meglio proprio di stare fuori del rig aia mi sono scambio vai a guarda 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 vai ok dai andiamo meno male che non vai poi da ring ok nonostante abbia due morte se la posso fare dai orrino andiamo a andare sul ring così hai fatto l'arche io come la chiamo io e così la chiudo spero vieni vediamo eh uno due tre ce l'ho fatta e la batteria è quasi scarica guarda che è venuta a salvarla sì cos'è quella la spia se non fosse arrivata lei dicevo se non fosse arrivata lei dici sarebbe stata un'altra sarebbe stata donatrice a kamikaze rose cioè avrebbe avuto i suoi dati immagino vabbè vaga e anche questo capitolo è finito e ci vediamo al prossimo ciao ciao